In una soleggiata giornata di primavera, i bambini della scuola si recano festanti, zainetto alle spalle, nella pineta ombreggiata, dove regnano l'ordine, la pulizia, il rispetto per l'ambiente e dove sono collocate, qua e là, alcune giustrine come altalene, dondolini e scivoli. Ognuno si avvicina alla giustrina preferita con il compagno preferito, cercando di rispettare il proprio turno. Qualcuno invece corre felice sul sentiero ghiaioso, che delimita una zona più tranquilla, dove anche qualche visitatore può recarsi a riposare. La felicità dei bambini è palpabile e traspare dai loro visetti, mentre ancora si divertono a rincorrersi e a saltellare. D'un tratto si nota sul sentiero un piccolino piegato a terra sulle ginocchia. Cosa mai sarà capitato al bimbo che, disperato, si porta le mani sul viso? Nulla di grave, è solamente caduto. Gli altri accorrono in suo aiuto, cercando di rincuorarlo. C'è chi lo consola, chi lo accarezza con tenerezza, ma c'è anche qualcuno che corre a recuperare il proprio zainetto per offrirgli da bere e anche qualche dolciume. Non appena le lacrime sono asciugate e il sorriso è ritornato, tutti insieme, tenendosi per mano, organizzano un allegro e gioioso girotondo.